buonasera buonasera a tutti questo era l'amore imperfetto adesso dovrebbe arrivare qui con me il regista marco lombardo che conosciamo l'abbiamo già visto anche in altre occasioni eccolo marco ecco appunto lombardi allora marco l'amore imperfetto un amore con tante sfaccettature l'amore che vabbè l'amore è l'amore folle doloroso di una perdita a qualsiasi livelli questo caso dello dello zio per una nipote che ha visto crescere che non riesce a lasciare andare nella vita di tutti i giorni l'autrice ha voluto mettere proprio al centro della storia nonostante ci siano altre tematiche molto importanti però questa questa follia di questo personaggio molto molto bello anche fa molta tenerezza devo dire nella sua diciamo soprattutto molto bravo molto molto bravo non lo dico ma lo dite voi e voglio ringraziare questo cast straordinario che ha tenuto in piedi abbiamo una rappresentanza gli altri sono scappati comunque raffaella feltra e marcello sigoli faccio dire due cose a loro grazie grazie per essere qui è un testo che a noi piace particolarmente il cast è affiatato quindi grazie mille regista è fantastico quindi niente da dire grazie vi ringrazio anche a nome della rappresentanza maschile del gruppo e niente siamo stati bene sono state qui con voi e il testo è molto bello e apre sia situazioni drammatiche che situazioni non voglio dire comiche perché comica però da commedia sicuramente insomma c'è un po di tutto vi ho sentite ridere quindi insomma certe cose hanno funzionato e sono passate quindi grazie della vostra gentilezza fra l'altro marco non abbiamo ancora detto il nome della vostra compagnia anche se vabbè comunque i giardini dell'arte voi siete una compagnia fiorentina siete conosciutissima fra l'altro stimatissima nel panorama amatoriale e sfido chiunque a dire altrimenti però voi avete ad esempio proprio portato in scena test importantissimi sempre la scorsa settimana avete debuttato con casa di bambola casa di bambola di ipsen abbiamo preso una strada un po complicata però siamo stati molto contenti e ripagati dal pubblico di una sfida una sfida molto grossa importante ogni volta cerchiamo di portare avanti delle tematiche importanti così per non far andare il teatro solo in altre direzioni ci dà l'opportunità di raccontare delle storie molto belle ci sforziamo di crescere di dare forza alla nostra compagnia e ringrazio per questo tutte le persone che stanno dietro oltre a degli attori straordinari con i quali siamo molto affiatati e andiamo avanti nel nostro percorso tra l'altro avete vinto anche un sacco di premi quindi evidentemente tutto questo lavoro paga beh sì noi ringraziamo il pubblico di questo per noi che facciamo un altro lavoro alla fine avere la possibilità di calcare dei palchi importanti in giro per l'Italia quest'anno è stato un percorso lunghissimo con tre spettacoli diversi e tutte e tre sono stati apprezzati e siamo molto 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 felici di questo e ringraziamo il pubblico anche stasera che ci ha supportato e adesso vi voterà infatti è il momento della votazione è una lotta dura perché siete una compagnia meglio di quell'altra ma il pubblico ne sta aggiovando il pubblico intanto bene grazie grazie a Marco e grazie alla tua compagnia vi voglio solo ricordare che sabato prossimo ritroveremo sei personaggi in cerca di atore della compagnia Castello di Foligno ecco il pirandello che non abbiamo visto circa un mese fa per problemi della compagnia ma sabato saranno qui quindi non perdiamoci questo appuntamento tutti insieme grazie buona serata